Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo insieme come organizzare una sessione di Cubase per registrare un album. In questo caso ho deciso di utilizzare una sola sessione per tutta la registrazione e il mixaggio di un intero album. Può non essere il metodo migliore per tutti ma vorrei illustrarvi oggi qual è il mio metodo di lavoro per gestire una situazione simile a questa. In questo caso si tratta della band Niam con l'album Supersonic che ringrazio appunto la band per avermi dato la possibilità di condividere con voi l'audio di questo progetto. L'album è uscito qualche giorno fa quindi se volete andare a cercarlo andate su Spotify. Tutto il progetto consiste in otto brani più una cover e un brano remixato. Allora perché ho deciso di fare tutto su un solo progetto? Semplicemente perché in registrazione è molto più comodo perché vi permette di andare a sentire magari alcune cose in altri brani, avere tutto già aperto con le tracce assegnate, semplicemente si aggiungono tracce nel caso in cui ci siano molti più strumenti e poi si va in un secondo momento magari una volta terminate le registrazioni ad aggiungere tracce per gestire meglio alcune situazioni e suddividere alcuni canali in più tracce. Ma soprattutto nel mixaggio trovo un vero guadagno in termini di tempo. Allora siccome le prestazioni del computer non sono un problema in questo caso non ho avuto problemi ad avere parecchie tracce e avere un'unica sessione di mixaggio su cui poi sono andato a fare delle automazioni nel caso in cui ovviamente compressione ed equalizzazioni non sono uguali brano per brano quindi non ci sono stati problemi mi sono trovato molto molto bene. Ovviamente alcuni di voi non saranno d'accordo quindi c'è anche chi preferisce avere differenti sessioni per i diversi brani per avere un po' più di comodità e dire voglio fare un mixaggio nuovo ogni volta che termino un brano quindi per partire diciamo da una situazione più o meno media importandosi i preset traccia ma si preferisce ripartire sempre da capo durante il mixaggio. In questo caso essendoci alcuni brani che dovranno suonare molto simili tra di loro altri un po' diversi ma che comunque racchiudono lo stesso sound ho deciso che era molto meglio trovarsi su una situazione su una sessione unica. Allora vi faccio subito vedere come ho organizzato il progetto più che altro non perché voglio dirvi questo è il metodo migliore ma perché semplicemente voglio lasciarvi un po' di spunti e capire se il mio metodo può essere comodo anche per altri e magari nei commenti lasciatemi qualche opinione o scrivete anche come siete organizzati voi di solito. allora in questo album siamo organizzati in otto brani con una cover e una canzone remix. Allora la prima traccia di solito suddivido sempre la visualizzazione con questo tasto che mi permette di avere la parte superiore e inferiore della sessione divisa che è molto comodo. Metto sempre una traccia marker che chiamo sempre marker di export che utilizzo poi quando vado a creare gli stem il mix finale per esportare tutto in un colpo quindi fare appunto l'esportazione con i marker di ciclo. Poi sotto di solito utilizzo la traccia arranger in questo caso non la utilizzo per provare varie situazioni ma semplicemente perché la trovo un po' più bella graficamente della traccia marker per suddividere il brano nelle varie sezioni. Questo succede spesso che mentre si registra si mixa parlando con i musicisti spesso si dice portami al ritornello allo stacco alla strofa per riregistrare ascoltare e capire molto spesso se è la prima volta o le prime volte che ascoltate il brano è difficile capire quale sia il punto ideale per portare appunto l'ascolto quindi una volta registrata una prima parte cerco insieme ai musicisti di suddividere il brano in parti per poi avere anche una visualizzazione grafica un po' più comoda di quello che sta accadendo. Poi vabbè la traccia metrica che ho semplicemente aggiunto poi per creare la traccia click per le basi che utilizzerò in un secondo momento poi in questo caso sono state fatte le basi per il live dalla stessa sessione quindi ho dei marker differenti appunto perché hanno il preconteggio all'interno quindi è la traccia marker per le basi poi c'è la traccia click che ho utilizzato semplicemente sempre per le basi non per la registrazione. In registrazione utilizzo il solito click che si abilita con la C oppure se volete già crearvi la traccia click magari a volte è un po' più comoda utilizzarla per mandare l'ascolto ai musicisti. Questo per quanto riguarda la parte superiore. La parte sotto invece ovviamente ha bisogno di una certa organizzazione perché ci sono parecchie tracce. Allora andiamo a vedere questo vi avviso che il primo video di due, il secondo video parleremo della situazione di plugin quindi quali sono state le scelte di mixaggio. In questo video parleremo solo di come ho strutturato il progetto. Allora invece abbiamo ogni sezione che sono poi le uscite per i vari stem una volta esportato suono appunto drums, basso, chitarre, voce e synth. Questo poi lo vediamo dopo. Allora per quanto riguarda le batterie ovviamente queste tracce sono già state editate, sistemate, intonate nel caso di punti in cui la voce non sia troppo intonata quindi è stata sistemata. Ci sono già tutte le tracce che sono state sistemate nel tempo con i tagli a posto quindi questa parte la possiamo tralasciare. Non fa parte dell'utilità di questo video. Allora innanzitutto vedete che ci sono parecchie automazioni su alcune tracce semplicemente perché ad esempio ogni brano potrebbe avere una tipologia di riverbero, di delay, qualche effetto che si accende che si spegne in base al brano quindi magari racchiudendo almeno ad esempio sul rullante due tipologie di riverbero in base se un brano è veloce o lento o se ci sono degli effetti particolari. Vedete che ci sono parecchie tracce della batteria quindi abbiamo il kick, un attimo che togliamo un po' di zoom, il kick, questo kick qua è stato utilizzato solo per il gate quindi è una copia del segnale che ho qua in alto semplicemente per far aprire o chiudere il gate regolando meglio le impostazioni. Quindi questa traccia come vedete non va a finire in nessun bus. Poi abbiamo un trigger della cassa, poi il gruppo cassa batteria, scusate questo caso era gruppo cassa batteria, kick, dove poi ho utilizzato dei plug in che vedremo successivamente, il rullante, lo stesso lavoro, troviamo rullante, snare, quindi il microfono, una parte dove ci sono i rimshot è stata tagliata in modo differente, il trigger, un trigger aggiuntivo, una traccia di rullante anche in questo caso per il gate, per il microfono, il microfono del rullante sotto e il gruppo rullante che racchiude appunto tutti questi canali di rullante per gestirlo meglio in volume e nel mixaggio in modo più adeguato e quindi una volta trovato il bilanciamento tra i vari canali del rullante è molto più comodo utilizzare un canale gruppo per gestirlo. Poi andiamo a vedere che c'è tom 1, tom 2, un'aggiunta di trigger ai tom che va a sommarsi sul suono originale, in questo caso un'altra traccia gruppo dei tom, poi abbiamo i at, overhead sinistra destro e room e appunto il canale gruppo per gli overhead. Alla fine tutto questo va a finire in una traccia gruppo che vi faccio vedere dal mixer, in questo caso vedete drums va a finire tutto dentro la batteria, nel gruppo batteria. Poi andiamo a vedere gli altri strumenti, ah in questo caso un piccolo, un modo diciamo che seguo io di lavorare è quello che ad esempio il charleston e i tom vado a tagliarli quando non suonano, quindi alcuni di voi utilizzeranno un gate, alcuni possono utilizzare ad esempio un taglio netto di dove non sta suonando, ovviamente mettendo sempre un fade in, un fade out velocissimo per tra le zone in cui inizia a esserci il taglio. Poi tutto è stato esportato per avere una traccia completa. Il mio consiglio, ad esempio in questo caso si parla di un album metal, quindi potete capire che alcuni aspetti ad esempio sono molto diversi dalla registrazione di una batteria jazz. In questo caso fare un taglio brutale dove non viene utilizzato lo strumento, secondo me è il modo migliore. Poi gli overhead e la room sono state messi in fase, quindi nello spostamento di tempo, in base agli altri microfoni spot per far suonare meglio diciamo l'interazione tra i vari strumenti della batteria. Anche in questo caso tendo a non utilizzare nessun plugin, come ad esempio c'è il Melda, non mi ricordo più il nome, che vi consiglia qual è lo spostamento da fare oppure ve lo mette in fase in automatico. Nel mio caso preferisco farlo a orecchio e farlo in base a come preferisco sentire il suono. Poi andiamo avanti, nel reparto del basso è un po' più semplice, ovviamente c'è una traccia sola, è una traccia di API e poi c'è una traccia distorsione che ovviamente ha un'altra equalizzazione e un'altra e altri settaggi e viene utilizzata ad esempio solo in due brani. Un'altra cosa che non ho detto prima della batteria è una piccola curiosità, ad esempio ci sono varie track version semplicemente perché la versione 1 conteneva tutte le take del batterista, quindi tutte quelle che erano state fatte. Una volta che ho scelto quelle che volevo fare ho portato la track version su edit, le ho tagliate e messe a posto come volevo per poi copiarle e averle sull'ultima versione definitiva che è quella che utilizzo nell'album. Poi andiamo avanti, le chitarre sono gestite in questo modo invece, ad esempio le chitarre left, right, ad esempio questa neck bridge in base alla posizione del pick up hanno differenti settaggi, hanno un fader VCA per sezione, quindi in questo caso dove ho bisogno solo di gestire il volume di queste due tracce insieme, ho deciso di utilizzare semplicemente un VCA per avere una regolazione del volume molto più veloce e comoda, quindi ci sono, potrebbero esserci alcune automazioni in qualche punto ad esempio qua. Poi ad esempio andiamo sul bridge ha sempre la sua traccia VCA, poi c'è una traccia di una distorsione con un arpeggio, il clean ha sempre la traccia VCA, poi c'è una traccia delay dove c'è già applicato un delay che poi alla fine non ho usato, alcuni noise di chitarre, la traccia dell'acustica e gli effetti, una traccia con degli effetti particolari. In questo caso anche come il basso e anche le chitarre vanno nella traccia gruppo chitarre. Poi troviamo la voce, ad esempio la voce ci sono parecchie tracce, adesso poi andiamo a vedere in totale quanti sono perché non ricordo, ad esempio la voce racchiude, ci sono alcuni gruppi quindi tutte le parti in scream e growl avranno un gruppo, in questo caso non è solo un voce ma è un gruppo perché ho bisogno di mettere degli insert sul gruppo per fare anche delle automazioni anche solo del volume, archivano tutte le tracce in growl, alcune tracce pulite, cantate pulite, poi ci sono anche sempre dei growl, ecco qua in questo caso erano tutte le tracce dei bridge che hanno un modo diverso di lavorare in confronto ai ritornelli che tendono ad avere un suono un po' più aperto, le tracce clean della voce quindi la voce pulita, ci sono anche i ritornelli, un coro e le tracce ritornelli che appunto hanno un gruppo a parte, poi ci sono alcune tracce ad esempio di una parte lenta che hanno alcuni effetti e sono state messe su un gruppo a parte e poi c'è un VCA che racchiude appunto alcune voci, non tutte, poi andiamo a vederlo sul mixer, poi chiudiamo le voci, c'è la parte dei synth quindi sono tutte le tastiere sintetizzatori dell'album che sono state suddivise in cartelle in base al brano, ecco in questo caso vado a specificare la voce come tutti gli altri strumenti, ad esempio la traccia scream è in comune con vari brani dell'album, quindi vedete che poi semplicemente ho fatto alcune automazioni per regolare il volume, accendere o spioniere effetti che non erano utilizzati in determinati brani. Poi andiamo a vedere, ovviamente le tracce synth sono divise per ogni brano, poi c'è la traccia cartella con l'intro dell'album, questa Siberian è una traccia remix che non condivide nessun settaggio di traccia con le altre che avevamo in precedenza, quindi ovviamente è stata mixata a sé da sola per conto suo e poi troviamo something in the way che è la cover che a meno tracce sono state mixate sempre a parte, tutte queste poi vanno a finire comunque nel gruppi traccia che abbiamo visto in precedenza. Adesso andiamo a dare un'occhiata al mixer, allora vedete che in totale ci sono ben 255 tracce che comunque per un album ci possono stare anche perché alcune vengono usate magari solo in una piccola parte. Allora la situazione dei plugin poi andremo a vederla successivamente nell'altro video perché sennò diventa troppo lunga. Come vedete le varie tracce sono state mandate ai bass corrispettivi, come vedete qua in alto. Ovviamente non andiamo a vedere i volumi oppure il pannaggio di alcune cose, poi magari ne parliamo nel prossimo video insieme ai plugin, quindi come è stato mixato l'album. Vedete che comunque soprattutto qua nella finestra del mixer dove racchiudo i gruppi e i VCA c'è un aspetto un po' più ordinato. Allora ad esempio adesso in questo caso i fader sono a zero perché c'era un fade out sui gruppi, andiamo qua. Allora vedete che ci sono qua all'inizio le tracce gruppo iniziali, poi ci sono i riverberi e i delay, quindi gli effetti della batteria con la compressione parallela che vanno a finire a livello di routing tutti dentro la traccia drums, quindi utilizzo la mandata dai singoli canali come può essere il rollante e tom, gli effetti della batteria vanno a finire dentro il gruppo drums, questo perché nel momento dell'esportazione è molto più comodo esportare. Poi le tracce gruppo singole delle batterie, scusate delle chitarre vanno poi a finire nella traccia gruppo chitarre, gli effetti delle chitarre, anzi delle voci in questo caso vanno finire dentro la traccia gruppo voce, i gruppi kick snare e tom vanno a finire dentro drums, i vca delle chitarre ovviamente non vanno a finire da nessuna parte ma sono solo un controllo, se non sapete bene come utilizzare i vca o le tracce gruppo vi invito a guardare un video che ho postato un po' di tempo fa appunto sulle differenze di questi due controlli e successivamente le tracce gruppo voce vanno a finire poi nella voce. Tutto questo va a finire nello stereo out. Allora in questo caso andiamo a vedere, vedete che nel momento in cui vado a creare gli stem che sono stati poi mandati allo studio di mastering oppure per fare le basi vado a scegliere semplicemente drums, bass, guitar, vox e synth anche uno stereo out è stato esportato comunque per metterlo da parte, marker di ciclo, sono stati selezionati tutti i brani e poi sono stati esportati in web 48 24 bit. Allora in questo caso penso di avervi fatto vedere più o meno tutto quello che riguarda l'organizzazione. Il mio consiglio è quello sempre di tenere organizzato il progetto bene con le cartelle, con i gruppi per riuscire a gestire meglio i volumi, l'equalizzazione, titoli sui marker, suddividervi magari il brano in sezioni per avere una visualizzazione grafica molto più veloce. Quindi questo più o meno è tutto quello che il modo in cui organizzo io la sessione. Spero che questo video possa esservi stato utile per avere un'idea di come lavorano altre persone a certe tipologie di progetto. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale ed abilitate la campanella per essere sempre aggiornati su questi video. Ci vediamo poi nella seconda parte del video e ci vediamo appunto a tra poco. Ciao!